La Giunta regionale ha revocato per insostenibilità economica il project financing dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, che prevedeva l'abbattimento e la ricostruzione delle palazzine del nosocomio che non sarebbero sismicamente sicure. Esprime soddisfazione il capogruppo in regione di Forza Italia, Mauro Febbo. Finalmente la Giunta ha preso atto di una decisione scontata, chiaramente ci volevano dei tempi e alcuni passaggi, perché chiaramente rispetto a ciò che è stato fatto dalla precedente amministrazione regionale si corre il rischio di pagare multe salate, rimborsi salati, quindi c'è un danno patrimoniale. Quindi bisognava seguire attentamente i passaggi, è il momento di dire basta e soprattutto è il momento di pensare al futuro di questo nosocomio che è un clinicizzato al supporto di una università importante come quella dell'Annunzio, un progetto che non aveva i piedi per camminare, tant'è che non è stato portato avanti, partiva da un costo iniziale di 700 milioni, poi scesi a 250 milioni, non c'è copertura finanziaria perché non è possibile spendere 250 milioni, credo un grande risultato, importante, ora però bisogna diciamo recuperare il tempo perduto. Febbo garantisce che verrà realizzato un nuovo parcheggio, ci saranno gli interventi sulle palazzine instabili, arriveranno anche nuovi macchinari, poiché ad oggi alcuni pazienti, anche oncologici, sono costretti ad andare altrove per potersi curare. Intanto negli ultimi tempi alcuni reparti del Santissima Annunziata sono stati dirottati verso gli ospedali di Lanciano e Ortona e sono molti servizi esternalizzati che hanno ridotto il personale con contratto collettivo nazionale. Se a questo aggiungiamo la scelta di inaugurare il Covid Hospital Pescara, sembra che l'intenzione della regione sia quella di avvantaggiare la sanità pescarese a discapito di quella tiatina, nell'annosa battaglia per accaparrarsi il DEA di secondo livello. Su questo Febbo preferisce rispondere con le parole di Giulio Andreotti, il quale sosteneva che a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Io credo che oltre all'ospedale magari qualcuno ci voleva fregare anche l'università. C'è un vecchio detto di Andreotti che rimane sempre di attualità e quindi noi ci rifacciamo a quel vecchio detto.